Ciao a tutti sono sempre io Mr.Striker e benvenuti in questo nuovissimo video e oggi sono qui con una nuovissima mod che si chiama Elemental Creeper Mod questa mod aggiunge molti creeper tra cui anche questa statua ok scherzo mi sono creato una statua anche in 3D vabbè a parte questo fa tempo che mi allontano vi parlo un po' allora questa mod aggiunge molti creeper fra cui che hanno poteri speciali tipo alcuni che ti possono scalamentare in aria alcuni vabbè adesso vi faccio dei tutti i creeper prima che trovo una bella pianura dove posso cazzo ah qui sta qui dietro aspettate un attimo ok comunque è una mod molto bella e merita molto ecco qua allora spaventiamo un po' di benerdosi creeper facciamo così già stanno così allora come vedete ci sono già i primi i primi come si chiamano i primi creeper qui in alto 12, 13, 14, 7, 8, 9, 9, 10 per esempio ora spaventiamo un water creeper spavent 12 questo qui è comunque il single player command questo qui vabbè si è blu si è un creeper d'acqua vediamo cosa fa esplodi ok fa tanta acqua anzi poi si leva anche bene carini poi spawn fire creeper creeper di fuoco vediamo com'è è arancione stronzo non vi preoccupate comunque tengo il backup eh ci credo poi dopo che è esploso tutto ok ora facciamo un altro creeper ice creeper spawn 14 prima che muore è bianco questo qui dovrebbe fare il ghiaccio dai ah neve figo così potremmo che è anche un bioma di neve per esempio nella giungla poi facciamo un altro creeper spawn spaventato electric creeper 15 dove sta eccolo non mi guardare così vediamo un po' di che colore è maledetto bug dovrebbe essere giallo fosforescente vediamo un po' che ha fatto? ah un fulmine ho sentito il rumore di un fulmine vabbè poi spawn 16 è il creeper della terra questo qui dovrebbe essere marrone e sopra dovrebbe essere verde vediamo che cazzo ah ok guardate che figata poi 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 facciamo un altro creeper vabbè comunque questa è la mod aggiungere vari creeper per esempio 18 sarà molto figo dov'è? eccolo qui il creeper dei biscottini dov'è? vieni questo è una un creeper utile si biscottini biscotti il fulmine non mi serve poi qualche altro creeper spawn per esempio magma creeper 19 ah questo qui dovrebbe fare il fuoco quando cammina ecco cazzo oddio lava poi per esempio free and the creeper com'è? mi sa che è andato nella lava ah ma eccolo questo qui mi pare che esplode ma non ci fa niente vediamo ecco esplode sempre guardate non fa né danno né si ma sei stronzo non serve allora ah però spinge questo è una cosa negativa stronzo dividendo pugni beh oddio non ce l'ho ucciso poi spawn da scrivere prendiamo un ultimo creeper questo qui per esempio dov'è? eccolo qui cazzo da parte di scherzi questa è la mod il voto di questa mod per me è un bellissimo 8 perché è una mod molto carina e simpatica anzi ci sarebbe anche un 9 vabbè 9 è una mod molto carina e simpatica e può essere anche più complicato a fare un survival quindi è buono bene per questo video è tutto dove è la mia casa? sto giocando con l'optify hanno disabilitato la nebbia non si vede un cazzo ok bene per questo video è tutto ci vediamo un po' nei prossimi video bella grazie